Cari spettatori, benvenuti nel mio canale. Oggi voglio svelarvi un'anticipazione emozionante e piena di suspense riguardo alle prossime puntate di Terra Amara. Un episodio che vi terrà col fiato sospeso, con colpi di scena e decisioni imprevedibili. La festa di compleanno del piccolo Adnan è imminente e l'entusiasmo è palpabile tra tutti, tranne che per Mugeigan. Fekeli la trova ancora in pigiama, lontana dai frenetici preparativi, e le chiede il motivo. Senza esitazioni, Mugeigan risponde di non voler partecipare alla festa e si chiede se la sua presenza sia davvero necessaria. Con saggezza e calma, Fekeli spiega che non c'è alcuna pressione per partecipare, ma sottolinea che avevano concordato di unirsi tutti per accompagnare il piccolo Kerem, fratello di Adnan, alla celebrazione. Nonostante la determinazione di Mugeigan, Fekeli le fa notare che Adnan è suo nipote e fratello di Kerem. Nonostante l'apparente fermezza di Mugeigan, ammette di essere consapevole della situazione, ma insiste sul fatto che non vuole partecipare all'evento, poiché desidera superare il dolore per la perdita di Ilmaz. Confessa di non essere pronta a vedere facce che potrebbero riportarla indietro a un passato che desidera dimenticare. La tensione è palpabile, e tutti si chiedono come Mugeigan affronterà i suoi demoni e come la famiglia reagirà alla sua decisione. Riuscirà a superare il suo dolore? Con la sua solita serenità e saggezza, Fekeli fa riflettere Mugeigan. Non chiede di dimenticare il passato, ma di accettare che è ora di lasciarlo andare, per il bene dei loro figli e per creare un ambiente sereno nel quale crescere. Sottolinea l'importanza di coesistere pacificamente con Zuleya e le ricorda che Ilmaz e Demir, nonostante i loro conflitti, sono riusciti a mettere da parte il loro odio reciproco. Fekeli fa appello a Mugeigan perché consideri la ragione dietro la sua richiesta. Alla fine, Mugeigan cede e decide di prepararsi per l'evento. Nel frattempo, Demir aiuta il piccolo Adnan a vestirsi per la festa imminente. Finalmente, con Kerem e Fekeli, Mugeigan fa il suo ingresso al party. La festa prende vita quando arriva la torta di compleanno, e Adnan e Uzum soffiano le candeline, mentre un coro di applausi e auguri riempie la stanza. Mentre la festa continua, si annuncia che è giunto il momento di svelare la grande sorpresa che Demir ha preparato per suo figlio. Demir, visibilmente emozionato, esprime la sua gratitudine a tutti i presenti per aver condiviso questo giorno speciale con lui e la sua famiglia. Durante il suo discorso, Demir mette in evidenza l'amore incondizionato che prova per i suoi figli e annuncia la decisione di lasciare parte del suo patrimonio a loro. In un momento toccante, rivela di aver accolto il figlio di Ilmaz come se fosse suo e ha deciso di onorare la memoria di Ilmaz dando ad Adnan il suo nome. Zuleyha e Fekeli sono visibilmente commossi e orgogliosi di questo gesto. L'annuncio che Adnan porterà il nome del suo vero padre, Ilmaz, viene accolto con un fragoroso applauso. Zuleyha abbraccia affettuosamente Demir per ringraziarlo, mentre Umit, giunta alla festa, osserva la scena con un velo di tristezza. Gli ospiti si avvicinano uno ad uno per fare i loro regali, e Fekeli ringrazia Demir per aver omaggiato suo figlio con una proprietà. Fuson e le sue amiche sono sorprese nel vedere il dono fatto da Fekeli ad Adnan. Umit si avvicina a Zuleyha, accolta calorosamente da lei, ma Demir osserva la scena con una certa irritazione. Lui la raggiunge al bagno e, interrompendo il suo commento sulla festa, le chiede con rabbia perché sia lì, ricordandole che le aveva detto di non partecipare e che avevano un accordo tra di loro. Umit risponde che è stata invitata personalmente da Zuleyha e che, se non fosse venuta, avrebbe voluto sapere il motivo, quindi ha deciso di partecipare per evitare di destare sospetti. Demir rimane scioccato dalla sua risposta. La celebrazione continua, ma Umit nota con disagio l'affetto tra Zuleyha e Demir. La sua amica esprime sorpresa nel vedere che Demir ha dato a suo figlio il nome di Ilmaz, mentre Gulten, osservando Zuleyha e Demir, nota la loro felicità. Fekeli, sperando che questa gioia duri per sempre, si unisce a loro. Tuttavia, l'atmosfera viene interrotta improvvisamente da Gaffur, che urla attirando l'attenzione di tutti. Demir chiede spiegazioni e Gaffur, visibilmente spaventato, rivela che la villa è in fiamme. La notizia provoca shock tra i presenti, e tutti si affrettano a raggiungere la villa. Trovano il fienile distrutto dalle fiamme. Gulten chiede a Gaffur cosa stesse facendo. Gaffur risponde che si trovava nel fienile al momento dell'incendio e che dovrebbero essere grati perché ha aiutato a spegnere le fiamme in tempo per salvare il resto della villa. Gulten si rallegra che nessuno sia rimasto ferito nell'incendio. Successivamente, Demir afferma con convinzione che l'incendio sia stato causato da Fikret. Il giorno seguente, Demir si avvicina a Fekheli con occhi fiammeggianti di rabbia e chiede con voce serrata dove si trova Fikret. Fekheli, pur mantenendo la calma, chiede il motivo di tale ricerca. Demir risponde con un tono tagliente, sottolineando che entrambi sono a conoscenza del perché. Con una certa malizia, Demir prende di mira Fekheli, affermando che non può considerarlo suo zio se non è in grado di controllare Fikret. Fekheli, sapendo di avere la forza della rettitudine dalla sua parte, avverte Demir di essere cauto con le sue parole. Ma Demir, mosso da una sconvolgente determinazione, lo minaccia, esortandolo a prendere le redini della situazione. La tensione tra i due cresce ulteriormente quando Demir solleva il tema della diffamazione della madre di Fikret, da parte di quest'ultimo. Fekheli, con dignità, risponde che Fikret avrebbe dovuto ponderare attentamente le sue azioni prima di diffamare suo padre. La discussione prosegue, e le frecciate si scambiano in un duello verbale acceso, con Demir che definisce Fekheli un codardo, innescando così l'ira di quest'ultimo. Fekheli, travolto dalla rabbia, decide di allontanarsi per evitare ulteriori conflitti, ma Demir lo insegue implacabile fino all'azienda. In un crescendo di tensione, la situazione raggiunge il punto di rottura, e il cuore dei presenti si stringe nell'angoscia quando Demir, preso dall'ira incontrollabile, spara ripetutamente al petto di Fekheli, lasciandolo a terra gravemente ferito. L'intero scenario si trasforma in una scena di terrore e panico, mentre gli astanti sono presi dallo sgomento. Il video ci riserverà sicuramente momenti carichi di suspense e dramma. Vogliamo scoprire se Fekheli sopravviverà all'agguato di Demir e se era veramente Fikret il soggetto della sua ricerca vendicativa. Continuate a seguirci per essere sempre aggiornati sulle nuove sviluppi della vostra serie preferita. Se vi è piaciuto il nostro contenuto, lasciate un like e attivate le notifiche per non perdere alcuna delle nostre prossime produzioni. Grazie e vi aspettiamo con il prossimo entusiasmante video. Grazie a tutti.